Ringrazio a tutti di essere venuti, ringrazio tutti gli organizzatori di questo incontro Scienze Vita, il Movimento per la Vita, difendiamo i nostri figli, l'Associazione Giovanni Papa XXIII. Questo incontro è Papa Giovanni XXIII. Ringrazio quindi gli amici che sono qui stasera e per me è un'occasione importante. Prima di tutto perché sono un po' a casa, io sono di Pesaro anche se ormai da 40 anni vivo a Siena, quindi mi sento un po' ritornata nella mia terra e nelle mie origini. Incominciamo appunto il titolo che avete scelto, ci sembra proprio determinante, che cosa ci sta succedendo. Bene, per capire che cosa ci sta succedendo io vorrei iniziare dando un po' una carrellata di quella che è la situazione, non soltanto in Europa ma anche un po' nel mondo. Quali sono i paesi in cui già l'eutanasia e il suicidio assistito sono legali? E quindi l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera, dieci giurisdizioni in America e l'Australia. E che cosa è evidente in questi paesi? Innanzitutto mi baso sulla letteratura perché essendo medico sono abituato a prendere in esame la letteratura scientifica, che in questo caso però io non definirei più scientifica perché diventa una letteratura ideologica, ma è giusto partire da lì. Al concetto di definizione dato dalla congregazione della dottrina della fede nel 1980 che sarà il nostro punto di riferimento, per cui noi consideriamo l'eutanasia un'azione o omissione che di sua natura e nelle intenzioni procura la morte. Quindi un'azione o omissione. Che cosa succede quindi invece nelle attuali definizioni della letteratura scientifica su questi argomenti? E' stata completamente tolta la omissione e la intenzione. Per cui, e altro dato estremamente importante, in tutta la letteratura la nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti terapeutici, sono terapia. Che cosa porta questa come conseguenza? Porta delle conseguenze importantissime. La sospensione della idratazione e della nutrizione non viene più considerato quindi un atto eutanasico, un atto che porta a morte il paziente, ma viene considerato semplicemente un rifiuto di una terapia oppure un non inizio di una terapia. E quindi con il consenso informato il paziente può dire appunto non accettare di non iniziare una nutrizione e idratazione o addirittura sospendere. Ma poi vedremo che i passi sono stati fatti ancora molto avanti. Altra cosa fondamentale, cambio diffuso in tutta la letteratura, l'atto di far morire un paziente diventa un atto terapeutico. E qui sta secondo me la gravità della questione. Lo vediamo in Canada. In Canada usano la cronoma MIDE, che significa appunto assistenza medica nel morire. In Australia usano il VAD, cioè una morte volontaria assistita. Quindi non siamo di fronte a un piano scivoloso, ma siamo di fronte proprio a un cambio di paradigma radicale. L'attività del medico quindi non è assolutamente come io di solito sintetizzo sempre, guarire qualche volta, curare spesso, prendersi cura sempre. Secondo me queste tre cose sono le caratteristiche che definiscono l'attività del medico. Adesso l'attività del medico prevede il dare la morte al paziente. E quindi è previsto proprio dal sistema sanitario. E noi diremmo c'è un suo DRG, quindi l'atto di dare la morte a un paziente diventa un atto terapeutico, un atto medico. E questo secondo me è l'altra gravità. In altri tutto poi ancora per chiarire, non esiste fondamentalmente nessuna differenza di quando parliamo di eutanasia o di suicidio assistito. Perché capite bene, l'esito finale è sempre lo stesso, è dare la morte al paziente. O che lo facciamo direttamente con un'iniezione letale, o che gli procuriamo la sostanza che poi lui con i mezzi strani o direttamente si assorbe, l'esito è sempre la stessa, è la morte del paziente. Ancora, guardiamo un po' i dati. I dati sono veramente incredibili. Nell'Olanda il report del 2017, quindi l'ultimo report che hanno pubblicato, 147.000 morti. Di questi 147.000 morti, 6.760 sono morti per eutanasia e suicidio assistito. Il 18%, quindi 26.500, sono accompagnati dalla sediazione profonda. E lo 0,5%, ma significano 735 pazienti, sono morti per aver interrotto il mangiare e il bere. Siamo rimasti colpitissimi dalla storia di quella giovane, Noa, avete sentito la storia, quella ragazza che ha 17 anni per gravi problemi psichiatrici e poi storia di violenze sessuali subite, ha deciso di morire, di lasciarsi morire senza mangiare e senza bere. E ha aspettato 17 anni, perché così dice la legge olandese, ma la cosa che colpisce è pensare che accanto a lei c'era un medico, uno che sta a assistere alla sua morte per mancanza di cibo e acqua. Ancora il pendio scivoloso, ma come vi ho detto il cambio di paradigma. Addirittura la nuova prospettiva dell'Olanda è questa, c'è una commissione di studio che dice Cerchiamo di vedere di poter depenalizzare anche il suicidio quando uno considera la propria vita compiuta. E quindi ora stanno discutendo, può essere 70 anni, può essere 75, ma vediamo, cerchiamo di capire. Cioè uno può darsi morte non perché ha una malattia, non perché ha una patologia, ma semplicemente perché considera la propria vita compiuta. Quindi tutto questo è il panorama che gira nel mondo. Vediamo i casi che ci interessano, che ci hanno interrogato e ci vogliono interrogare stasera. Il piccolo Charlie Gard, Alfie Evans e poi Vincent Lambert. Prima storia, chiaramente ve la racconto da un punto di vista medico. Cioè riguarda un bambino con una diagnosi particolare, perché una diagnosi diciamo di una degenerazione mitocondriale, una malattia genetica e abbiamo letto tutti, rifiuto di terapie sperimentali. Ma lo sapete che cos'erano queste terapie sperimentali? Queste terapie sperimentali da poter dare a questo bambino non erano altro che polvere di desossi nucleosidi, polvere banale, tipo derivati delle proteine, che potevano escire sciolti nel latte e nell'acqua. Cioè, quindi costo irrisorio. E quindi dice, ma perché? Rifiuto di dare inoltre dati scientifici. I pazienti con questa diagnosi nel mondo sono pochissimi, intorno a 15. Tutti i bambini diagnosticati fino ad allora hanno avuto due o tre mesi di vita. Il bambino Charlie aveva quasi un anno. Quindi eravamo di fronte anche a una malattia che, come si dice nell'ambito medico, aveva una diversa espressione. Ma nessuno ha preso, cioè si è assunta la responsabilità, la voglia di guardare in faccia quel bambino e quello che è il valore della sua vita. Questo bambino, altre cose fondamentali, a un anno aveva ancora un sondino nasogastrico e questo non è previsto da nessun protocollo internazionale, ma non era in un ospedale di campagna. Era il Goshe, il Goshe è il miglior ospedale pediatrico di Londra. Quindi le linee, i protocolli li conoscevano benissimo. Questo bambino quindi era nutrito ancora con un sondino, non aveva una peg. Sapete che la peg è il tubicino nello stomaco. Secondo, questo bambino anche la ventilazione veniva fatta con un tubo naso tracheale, mentre poteva benissimo essere fatta una tracheostomia che avrebbe avuto molti altri vantaggi. Ma allora perché è questo? Perché su questo bambino c'era in realtà un vero e proprio accanimento ideologico, un vero e proprio accanimento che il Cardenas Grigia chiama tanatologico. Cioè quel bambino aveva una bassa qualità di vita, quindi era giusto che non potesse vivere. E quindi a noi giudici ci hanno tirato fuori le famose due parole fondamentali, il best interest, il best interest di quel bambino era la morte. Ma vedete, per alcune cose sono stati anche drammaticamente ridicoli. Parlavano delle dimensioni di un respiratore che non poteva entrare nella sua casa. Non è vero, ci hanno fatto le ultime immagini che abbiamo visto. Questo bambino era in un passeggino e aveva tranquillamente il suo respiratore inattaccato. Poi, ma che cos'era in questa vicenda il particolare? I genitori non chiedevano certo di guarire il bambino, non possibile, nelle mani solo del Padre Eterno. Chiedevano semplicemente di poter continuare ad accudire la loro creatura. Bene, passiamo al secondo caso, se no vi rubo troppo tempo, Art Evans. Perché questa storia è ancora drammaticamente terribile da un punto di vista medico-scientifico? Quel bambino è stato ucciso senza aver fatto una diagnosi. Cioè, noi non sappiamo che cosa c'era quel bambino. E questo nel 2019 non si può ammettere. In quel bambino, due anni, anche lui senza PEG e senza tracheotomia. E quindi, condizioni bruttissime, tutte le immagini e le foto, avete in mente tutti quei grossi cerotti nel volto. Ma queste sono cose che non sono veramente ammissibili. Perché anche su quel bambino il giudizio era già stato dato. Il best interest di quella creatura era morire. E' vissuto cento ore, cento ore, ma sono tantissime, dopo essere stato stubato improvvisamente. E' un bambino che sicuramente accompagnato poteva tranquillamente tornare a casa dai propri genitori. Perché aveva un quadro clinico stabile. Bene, così, no, per lui aveva deciso. Ma questi, chiamiamoli con il vero nome, sono eutanasia di stato. Punto. Non si può discutere. Vincent Lambert, la situazione anche lui, questa volta passiamo dai nostri cugini francesi, che non stanno certamente meglio. Vincent Lambert, diagnosi stato di minima coscienza, un signore tetraplegico di 42 anni. Era ricoverato da 11 anni in un reparto di terapia palliative. Cioè, questi pazienti hanno bisogno di essere mossi, di ginnassi, cattiva, passiva di contatto. Dove addirittura venivano controllati i contatti che riceveva. Per 11 anni è stato in quel reparto, ma anche qui la Francia non ha strutture, no? L'ospedale di Rems è un ospedale universitario, uno dei più grandi e dei più attrezzati di tutta la Francia. Anche su di lui è stato fatto un giudizio molto preciso, una vita che non valeva la pena essere vissuta. Poi affronteremo il problema della pagliazione rispetto a questo caso. Bene, dopo che vi ho dato... Ah, ci sono alcuni aspetti tragici che però vi volevo raccontare, che secondo me li dobbiamo ben tenere presenti. Cioè, questi bambini erano guardati da 20, 30, 40 gendarmi, come se fossero i peggiori assassini. Venivano controllate le borse dei familiari perché per esempio non contenessero le bustine di zucchero. Queste cose vanno sapute, devono rimanere alla nostra memoria. Il povero babbo di Alf Evans ha dovuto prendere al volo una mascherina per la respirazione che gli aveva lanciato dei loro amici, superando la barriera dei gendarmi. Quindi, ancora una volta, un'etanasia di Stato. Quindi bisognava decidere, è lo Stato che doveva decidere dove, come e quando morire. Bene, adesso passiamo ai nostri relatori e do volentierissimo la parola al dottor Giacomo Rocchi, magistrato e consigliere presso la Corte di Cassazione, autore di diverse pubblicazioni. E io vi sottolineo le ultime due che sono veramente importanti. Licenza di uccidere e poi quella sull'Englaro dove è andata? Non so dove è andata, quindi un libro sulla storia di Englaro. Sono le domande che bruciano. Vi consiglio di leggere questi due libri perché sicuramente sono di un aiuto importante a capire quello che sta succedendo. Però il libro mi serve perché volevo, eccolo qua, perché il modo più vero di presentare il dottor Rocchi è quello in cui lo presenta il suo amico Mario Palmaro. Per chi non conosce Mario Palmaro, ricercatore in filosofia di diritto, docente di filosofia, etica, bioetica e filosofia teoretica dell'Università Europea di Roma, presidente nazionale del Comitato Verità e Vita. Come presenta il dottor Giacomo Rocchi. Giacomo Rocchi è un magistrato serio, punto. Non solo perché è un cattolico vero, ma perché esercita la sua gravosa responsabilità di giudicare praticando l'antica arte della iuris prudenza. Egli sa che non c'è diritto senza l'esercizio di una virtù fondamentale che è la prudenza, che è il segno, il sigillo, diremmo, del legame profondissimo tra l'amministrazione della giustizia umana e l'orizzonte etico-morale. E a lui chiediamo questa cosa, due cose fondamentali. Uno, casi come quelli di Charlie Gard, Alfa Evans o Vincent Lambert possono succedere in Italia? Come siamo messi in Italia con la legge approvata appunto sulle date 219 del 2018? Seconda domanda però, ci sembra il caso, vista la sentenza della Corte Costituzionale di pochi giorni fa, chiediamo un giudizio e un aiuto a capire anche che cosa sta succedendo rispetto al suicidio assistito nella nostra Italia. Grazie a voi. Buonasera e grazie davvero per l'invito. Io cercherò di essere quanto più concreto, perché so benissimo che i giuristi di solito quando parlano sono piuttosto noiosi, quindi cercherò invece di scendere nel concreto. E in effetti il senso del libro, l'ultimo libro, questo Licenza di uccidere, che mi hanno costretto a scrivere dopo aver scritto una serie di piccole riflessioni che ho messo insieme per fare una trattazione organica sul contenuto di questa legge 219 del 2017, sul consenso informato e sulle date, è appunto un taglio di tipo pratico. Proprio perché io sono convinto, lo dico senza falsa modestia, che se i giuristi pratici servono, cioè gli avvocati, i magistrati, servono a qualcosa oltre al lavoro che fanno, è proprio da fare da mediatori rispetto al popolo sul contenuto delle leggi, che spesso noi vediamo lontane, incomprensibili. E questo è avvenuto soprattutto per una legge come questa, la legge 219, che è stata approvata in tutta rapidità nella scorsa legislatura, sostanzialmente tacendo sul suo reale contenuto. E quindi il tentativo che cerco di fare con questa conversazione e con altre che ho fatto, è un tentativo innanzitutto di democrazia. E cioè sostanzialmente io sono convinto che il popolo italiano non ha saputo quello che si stava approvando. E allora cerchiamo di capirlo, cerco di farlo capire, naturalmente con esempi pratici. Volevo dire che il titolo che gli organizzatori hanno fatto è un titolo molto bello, molto intrigante. Cosa ci sta succedendo? Secondo me ci sono vari piani di lettura e volutamente gli organizzatori hanno pensato a questi vari piani. Cosa sta succedendo? La dottoressa Ruggeri ci ha spiegato cosa sta succedendo nel mondo. E sicuramente le cose che stanno succedendo non sono certamente belle, anche se ci sono delle notizie belle, come ne parleremo un attimino dopo. E quindi il mio compito sarebbe dire cosa sta succedendo in Italia. Però da un altro punto di vista questo ci tra parentesi richiama un'altra domanda molto più pregnante, molto più drammatica per ciascuno di noi. Cosa ci sta succedendo? E cioè siamo in grado davvero di giudicare quello che sta succedendo? E siamo sicuri di non essere d'accordo, scusate se vi faccio una domanda molto brutale, su alcuni di questi casi? Cioè davvero noi stiamo pensando che queste morti procurate, queste uccisioni, perché uccisioni sono, sono davvero ingiuste? E cioè la domanda che gli organizzatori ci fanno è dice ma ciascuno di noi si guarda dentro, cosa ci sta succedendo? Stiamo forse cambiando anche il nostro cervello e soprattutto il nostro cuore? La terza, il piano di lettura di questa domanda è, e su questo vorrei insistere, cosa ci sta succedendo? Significa anche che cosa rischia di succederci. Perché la presunzione per chi si avvicina a questa tematica è che in realtà questo è un tema in un certo senso che non ci riguarda tanto o almeno non ci riguarda per ora, per ora che siamo giovani, un po' meno giovani ma ancora abbastanza sani, che non abbiamo avuto delle... che la convinzione nostra in fondo in fondo è che questa tematica riguarda i morenti, coloro che soffrono delle pene indicibili, coloro che hanno delle malattie gravissime che sono vicine alla morte. Ecco, il libro vuole dimostrare, e le poche cose che vi dirò vogliono tentare di indicare che la realtà è totalmente diversa. Quello che è successo in Italia, perché la risposta alla domanda della dottoressa Ruggeri è sì, è già successo in Italia e quindi succederà, riguarda e succederà nei confronti di tutti noi o meglio, nei confronti di ciascuno di noi. E quindi, se non c'è stata democrazia nello spiegare al popolo quello che si stava approvando su quello che potrebbe succedere a ciascuno di noi, cerchiamo forse di iniziare a quantomeno a difenderci. Un discorso un po' duro, vorrei però partire da tre casi pratici che sono successi in Italia dopo l'entrata in vigore di questa legge. La legge 219 del 2017, che si presenta come il rispetto dei principi della Costituzione della Carta Fondamentale dell'Unione Europea e dice di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Il 3 febbraio 2018, tre giorni dopo l'entrata in vigore della legge 219, Patrizia Cocco è morta in conseguenza del distacco della respirazione artificiale, operato previa sediazione profonda. Operazione dopo che aveva ribadito la sua richiesta, quindi questo è un caso di suicidio assistito, di richiesta esplicita, davanti a diversi medici. Era ammalata di sclerosi laterale amiotrofica, SLA, nel 2012 si era ammalata. Nel 2015 le era stata effettuata una, evidentemente proprio al suo consenso, la tracheostomia appunto per supportarne la respirazione. Dopo l'entrata in vigore di questa legge, la signora Cocco che già lo chiedeva in passato di morire, ha ribadito la sua richiesta davanti a diversi medici e dopo che sono stati sicuri che lei davvero volesse morire, uno di questi medici ha staccato il respiratore artificiale dopo averla sedata, per non farla soffrire, perché la signora Cocco è morta nel giro di pochi minuti soffocata, perché era uno stato della malattia tale per cui la respirazione era necessaria. Voi sapete che la SLA è una malattia progressiva, a un certo punto la respirazione non è più autonoma. Cosa ci dice questo primo esempio? Questo primo fatto concreto. 3 febbraio 2018, siamo in Sardegna. Ci dice che intanto prima della sentenza della Corte Costituzionale di cui si parla di questi giorni, già con la legge 219 si poteva uccidere i pazienti. I poetici potevano già in precedenza uccidere un paziente togliendogli l'aria per respirare. Infatti, nella logica della legge 219, uccidere interrompendo le forme di sostegno vitale, seppure su richiesta dell'interessato, fa parte della terapia. È la migliore terapia possibile, perché il rifiuto è stato espresso dal paziente. Quindi non c'è bisogno di nessuna autorizzazione giudiziale. La signora l'ha chiesto, i vari medici coinvolti hanno ascoltato la sua richiesta e le hanno chiesto se era sicura, ha detto di sì e i medici l'hanno fatto, senza chiedere nemmeno un'autorizzazione a un giudice, convinti e sicuri, giustamente, che se lo avessero fatto, cioè se avessero provocato la morte di questa donna, sarebbero stati esenti da responsabilità civile e penale. Perché l'articolo 1,6 di questa legge 219 dice che il medico che, aggiungo io, uccide un paziente, cioè interrompe la terapia salvavita o le forme di sostegno vitale sul richiesto del paziente, è esente da responsabilità civile e penale. E infatti la morte di Patrizia Cocco non ha dato seguito a questa morte procurata nessun tipo di indagine penale. Era normale, era una perfetta, piana applicazione di questa legge. Siamo nell'autodeterminazione, questo non c'è dubbio, la signora Cocco era ben consapevole di quello che chiedeva, lo chiedeva da tanti anni, è stato possibile farlo in questo modo dopo che la legge 219 è entrata in vigore. E ci dice anche una cosa molto precisa. La legge 219 dice, per la prima volta, quello che la Corte Costituzionale ha ribadito prima con l'ordinanza e poi con la sentenza. I medici, come ha detto la dottoressa Ruggeri, devono essere pronti a uccidere. La Corte Costituzionale è andata oltre, ha detto che i medici devono uccidere. Davvero da giurista, io a volte quando faccio gli incontri giuridici mi stupisco di quanto i miei colleghi siano al di fuori dal mondo. Cioè dire che in un ospedale pubblico, perché poi la Corte ha detto in un ospedale pubblico, ci sono dei casi in cui, che dovranno essere organizzati, quindi quando entrerete nell'ospedale, tra le varie indicazioni, chirurgia eccetera, suppongo ci sarà anche il dipartimento, eliminazione su richiesta, dire che in un ospedale pubblico, in certi casi, in determinate condizioni, dice la comunicato stampa della Corte, i medici devono uccidere, vuol dire che te sei un giudice che o sei totalmente fuori dal mondo, oppure questo mondo lo vuoi proprio cambiare. È male, se vogliamo dire così. Non voglio aggiungere altro, visto che... Però questo è il punto di partenza. Io vi faccio un caso, un secondo caso, molto più, che vi dovrebbe convincere che questa legge riguarda ciascuno di voi, ed è la morte di Claudio De Manzano, 18 febbraio 2019 a Trieste. Noi soffrivamo per Vincent Lambert non sapendo che un anziano di 84 anni che era stato colpito da ictus e che non era nemmeno in stato vegetativo, come del resto non era Vincent Lambert, stava soffrendo e è morto nello stesso modo. Le notizie sono certe perché le ha rese pubbliche la figlia, Giovanna De Manzano, avvocato, che ha presentato anche una denuncia penale. Allora, Claudio De Manzano non aveva mai redatto una DAT, una disposizione anticipata di trattamento. Era passato più di un anno dall'entrata in vigore della legge, quindi voi sapete benissimo che ciascuno può redigere una disposizione anticipata di trattamento. Ricoverato all'ospedale di Cattinara per un'ischemia cerebrale, non si trovava in stato vegetativo ma di vigile stato di coscienza minima, ma era semiparalizzato e incapace di esprimersi e di riconoscere i familiari. La figlia si fa nominare amministratore di sostegno e utilizza uno strumento che è stato creato, molti forse lo conoscerete, è stato creato proprio per assistere all'amministrazione di sostegno, si chiama così proprio perché cerca di sostenere la persona in difficoltà in specifiche esigenze. E allora da questo punto di vista la legge sull'amministrazione di sostegno prevede che la nomina possa essere fatta anche su richiesta di parenti. E il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno prevede i compiti che deve fare l'amministratore e gli può attribuire anche la rappresentanza esclusiva in materia sanitaria. E la legge 219 stabilisce che il consenso informato ai trattamenti sanitari è espresso o rifiutato dall'amministratore di sostegno tenendo conto della volontà del beneficiario. Allora cosa fa la figlia? La figlia si fa nominare amministratore di sostegno, il decreto di nomina le attribuisce la rappresentanza esclusiva anche in materia sanitaria, del resto il padre non era in grado di esprimersi e quindi chiede all'ospedale di sospendere la nutrizione e idratazione. Nell'intervista dice perché mio padre aveva detto che non avrebbe mai... Lei lo chiede. L'ospedale si rifiuta, l'ospedale di Cattinara, parliamo bene degli ospedali che meritano di essere... perché dice la nutrizione e l'idratazione artificiale era stato da poco colpito da ictus cerebrale, quindi non si sapeva come... era necessaria e appropriata, diceva l'ospedale. Il giudice tutelare a cui si è rivolta la figlia, cosa fa? Autorizza la figlia a trasferire suo padre da un ospedale all'altro, la figlia lo trasferisce in un altro ospedale, a questo altro ospedale rifiuta la nutrizione e idratazione e l'altro ospedale non fa obiezioni dopo pochi giorni. No, dopo diversi giorni, lo dice la figlia, il mio padre dice nell'intervista morto di fame e di sete, sedato e perché, dice lei, perché non esiste una legge per fare morire con dignità. Sostanzialmente evocava questo che poi ci ha detto la Corte Costituzionale, cioè visto che ci vuole tanto tempo e tanta sofferenza è meglio ucciderli subito. E allora riflettiamo su questa vicenda. In primo luogo la truffa delle DAT, cioè delle disposizioni anticipate di trattamento che appunto Claudio De Manzano non aveva fatto. Hai fatto la DAT, ti uccido. Non hai fatto la DAT, ti uccido lo stesso. La truffa dell'autodeterminazione, la decisione è stata lasciata alla figlia che non ha nemmeno dovuto imbastire quella grottesca istruttoria che aveva dovuto fare Beppino Inglaro nei confronti di sua figlia. Vi ricordate ha chiamato a testimoniare le amiche? Guardiamoci dalle amiche. In questo caso non c'è stato più che dovevano dire che Eluano non avrebbe mai voluto... No, non l'ha dovuto fare. L'ha semplicemente chiesto. Ancora un'altra riflessione. Se la De Manzano non avesse presentato una denuncia penale, e poi vi dirò nei confronti di chi, e non avesse parlato ai giornali, la morte procurata del padre sarebbe passata sotto silenzio. E quindi quanti Claudio De Manzano ci sono stati in questo anno e mezzo di approvazioni? E quanti ce ne saranno senza che noi ne sappiamo nulla? Ultima constatazione. Gli unici denunciati, chi sono stati? Quelli dell'ospedale di Cattinara che hanno dovuto fare un comunicato stampa e suppongo abbiano dovuto nominare un avvocato per dire che loro ritenevano che la nutrizione. Non c'è stato nessun procedimento penale aperto, anche in questo caso, nei confronti dei medici dell'altro ospedale che hanno attuato la volontà. Quando vi dicevo che la legge 219 riguarda tutti, questo caso è abbastanza tipico. è tipico perché, sentiamo cosa dice la figlia nell'intervista, è apparso chiaro che mio padre non sarebbe guarito e non avrebbe più avuto una vita dignitosa. Quindi se sei anziano, Claudio De Manzano aveva 84 anni ma anche se non sei anziano, e se sei affetto da una malattia inguaribile che rende secondo il giudizio di tuo figlio oppure secondo il giudizio di tua moglie, nel caso di Manzano te l'avverta, la tua vita non dignitosa, che tu abbia fatto o non abbia fatto una data, sei spacciato. Il terzo caso pratico è il decreto del giudice tutelare di Roma, qualcuno l'avrà letto sul giornale. Il caso è emerso, pochi giorni fa è stato fatto questo decreto del giudice tutelare. Cosa dice il giudice tutelare? Qui c'era una persona in stato vegetativo, da alcuni anni, da due anni. Il compagno credo si fa nominare amministratore di sostegno e anche lui chiede l'autorizzazione al giudice tutelare di sospendere la nutrizione e idratazione artificiale, esattamente come venne fatto per Luana Inglaro, come è stato fatto per Vincente Lamberto e come è stato fatto per Claudio De Manzano. Il decreto del giudice tutelare è un decreto che dice non hai bisogno della mia autorizzazione. Il dispositivo, voi sapete che i provvedimenti giudiziari hanno la decisione e la motivazione, il dispositivo è non luogo a provvedere. L'amministratore di sostegno di una persona in stato vegetativo non ha bisogno di chiedere l'autorizzazione nei confronti per interrompere le forme di sostegno vitale. Ma aveva lasciato delle dichiarazioni scritte? Non le aveva lasciate? Non importa, sei amministratore di sostegno e può interrompere le forme di sostegno vitale. Naturalmente questo riguardava una persona in stato vegetativo ma può riguardare persone in stato di coscienza minima o quantomeno non possono interloquire. Vi dicevo qualche notizia bella c'è e una delle notizie belle è che l'avrete sentito Tafida a Rakib. Dillo a te, vai. Grazie a Dio questa bambina può venire in Italia, può venire nell'ospedale Gaslini. Di questa notizia siamo veramente molto contenti perché è stata una battaglia importante e certamente dobbiamo riconoscere che è stata una battaglia condotta grazie ai giuristi italiani che hanno certamente collaborato ma condotta davvero dai genitori e dalla sua mamma avvocato, condotta in modo corretto, in modo giusto. Cioè a questa bambina gli è stato consentito di potersi trasferire come vedete e di potersi spostare e quindi venire in Italia. Come vedete diritto negato a Charlie Gad e a Alfie Evans. Però ho riconosciuto a Tafida a Rakib e quindi siamo molto contenti. Dovete sapere che io vengo ora da Lugo di Romagna e sono passato da Imola per parlare con questo avvocato dei giuristi per la vita perché in Italia hanno contribuito i giuristi per la vita in collaborazione con questi avvocati inglesi perché per salvare un bambino che è malato ci vogliono avvocati, ci vogliono un sacco di soldi eccetera. Una delle cose che mi ha colpito è questo, questo avvocato Ampassana ha detto questo, per il giudice, per giustificare che Tafida Rakib poteva venire in Italia e non doveva essere uccisa così come avrebbe voluto l'ospedale inglese, ci ha messo 70 pagine di motivazione. Il giudice per dire che Alfie Evans invece doveva morire ce ne ha messe 15, è molto più facile. Allora io quello che non sapevo e avrei voluto dirgli è questo, il giudice tutelare di Roma per dire che l'amministratore di sostegno può far morire di fame e di sete? Una pagina. Me l'hanno mandato perché vogliono un commento giuridico eccetera, in una pagina. I giudici sono fatti così perché loro non guardano in faccia, per loro in fondo in fondo questa persona non vale assolutamente nulla e quindi basta una pagina per dire fai pure quello che vuoi perché è in stato vegetativo, non c'è bisogno di aggiungere altro, non hai bisogno di una mia autorizzazione, fallo e basta. E allora vi ho fatto questi tre casi per dire che cosa? Che la sentenza della Corte Costituzionale che giustamente la dottoressa Ruggeri mi ha chiesto arriva dopo e lo dice esplicitamente, quell'ordinanza di rinvio diceva già tutto, ora noi della sentenza abbiamo soltanto il comunicato stampa, il comunicato stampa che dice, pensate un po', che ha ritenuto non punibile a determinate condizioni che agevola il proposito di suicidio, determinate condizioni. Qual è la sostanza giuridica di questa decisione? E' la sostanza giuridica della legge 219 che se una persona si trova in determinate condizioni può suicidarsi quanto vuole. La società gli sta dicendo, la Corte Costituzionale, il Supremo Organo, il Parlamento con la legge sta dicendo a una persona, sei malata, sei in determinate condizioni, vuoi farla finita? Puoi farla finita. Ma cosa significa questo? Questo significa che la società gli dice della tua vita a me non interessa niente. questa è la risposta. Quindi la domanda cosa ci sta succedendo è una domanda che riguarda ciascuno di noi, perché quando noi le incontriamo queste persone e allora dobbiamo essere in grado di esprimere un giudizio, di esprimere qualche cosa, ma riguarda anche la società. Noi siamo una società che ora dice esplicitamente alle persone in determinate condizioni che se si vogliono far da parte lo possono fare. E da questo punto di vista vi segnalo un aspetto della legge 219 che è l'aspetto relativo alla parola dignità. Voi sapete che molto viene usato sulla parola dignità. Beh, dovete sapere che vi ho letto prima l'articolo 1 della legge, no? E che, scusate ma ho trovato una... L'articolo 1 della legge che dice la presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione delle persone. Il testo originario era la presente legge tutela la vita e la salute. Cosa vuol dire che questa modifica, qui vi invito a fare un po' di esigesi come facciamo noi giuristi, la vita e la salute. Invece il testo finale è la vita, la dignità, la salute e l'autodeterminazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la dignità non fa più parte della vita. Perché se io dico, metto accanto vita e dignità, che invece prima vuol dire che prima nel testo primario pensavo che la dignità fosse intrinseca ad ogni uomo e non c'è bisogno di menzionarla allora. Se invece io la tiro fuori dalla vita e la metto accanto vuol dire che ci possono essere delle vite senza dignità. E le vite senza dignità tendenzialmente sono le vite senza autodeterminazione, cioè le persone in stato di fragilità che non possono decidere o che rischiano di essere influenzate nella loro decisione. E allora da questo punto di vista questo passaggio che l'ho capito dopo un po' perché mi sono reso conto che la parola dignità è una specie di passepartout che era presente fin dalla prima proposta di legge in materia di eutanasia, 1984, onorevole Loris Fortuna, che lo conosciamo purtroppo per ben altro, e già allora parlava di dignità della persona. Ecco, il mio invito finale, perché scusate ho parlato troppo, è questo. non ci facciamo prendere in giro. Loro sbandierano l'autodeterminazione. Nessuno può decidere per noi. Patrizia Cocco ha chiesto lei di essere uccisa. Fabiano Antoniani ha esercitato un suo diritto. Intanto due riflessioni finali che si accompagnano un po' a quello che ha detto la dottoressa Ruggeri, l'ha detto dal punto di vista del medico. Io invece mi vorrei mettere, visto che non sono medico, dal punto di vista del paziente, di quello che se non lo è oggi lo sarà domani. Ma quando ci prende una malattia un po' grave, siete proprio sicuri che abbiamo bisogno di un nuovo diritto? Oppure abbiamo bisogno di un medico bravo, coscienzioso, che abbia tempo di parlare con noi? E che insieme possiamo costruire un'alleanza terapeutica vera, in cui si parla, si coinvolge la famiglia, si prendono decisioni coraggiose e si può anche rinunciare a determinate terapie. Ma nell'ambito di un rapporto umano? Oppure abbiamo bisogno di un diritto per cui il medico dice, dimmi te cosa devo fare? Così la legge dice. Alla fine la decisione del paziente, dimmi te, se tu rifiuti, io faccio, sono esente da responsabilità civile e penale. Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è che evidentemente questa legge e questa sentenza della Corte Costituzionale ci interroga profondamente. cosa dobbiamo fare ora? Sicuramente dobbiamo dire che questa legge, queste decisioni giudiziarie, questa decisione della Corte Costituzionale sono sbagliate, scandalose, vergognose per uno Stato democratico come il nostro. Non ho timore a dirlo. Siamo uno Stato che è nato sulla solidarietà e che quindi è proprio nella vicinanza alle persone in stato di difficoltà, di fragilità, che si contraddistingue. Oppure no? Decidiamolo. Ma questo vale chiaramente, noi possiamo farlo pubblicamente, io cerco di farlo pubblicamente, dove posso farlo, ma riguarda ciascuno di noi. Dobbiamo decidere che significato ha la nostra vita, quando saremo malati, quando siamo anziani, se ha significato, se ha significato le relazioni con le altre persone e così dobbiamo anche decidere se le persone che incontriamo, anche se sono fragili, disabili, malate, in stato vegetativo, hanno ancora bambini e non ancora nati. Ricordiamoci che tutto questo ci ha educato la legge sull'aborto. Noi siamo abituati a nascondersi, a voltare dall'altra parte il viso per non vedere quello che sta succedendo nei confronti dei bambini non ancora nati e allora dobbiamo decidere se siamo ancora uomini oppure non lo siamo più. Grazie. Allora davvero un grazie di cuore al dottor Rocchi e al dottor Giacomo Rocchi e vi voglio soltanto ricordare le parole del grande Cardinale Caffarra. Ogni uomo ha la sua dignità solo per il fatto stesso di essere uomo. Questa sarà, è l'affermazione su cui si gioca il futuro della nostra civiltà. Penso che dalle parole che ci ha detto Giacomo Rocchi e abbiamo capito che cosa c'è in ballo. E sono le domande che poniamo al Don Daniele Federici che è un professore di storia della Chiesa dell'Istituto Teologico di Ancona della Fraternità di San Carlo Borromeo. E gli chiediamo appunto cosa c'è in ballo, c'è il principio dell'autodeterminazione, c'è il principio del valore della dignità dell'uomo. Don Giustani ci diceva io vengo da quella storia e Don Giustani sono di quella storia. Don Giustani ci diceva o l'uomo riconosce che dipende da qualcuno o per forza è il potere in qualsiasi forma e modo a determinare la sua vita. Bene, tutte queste domande sono domande che ci premono e che è necessario che le affrontiamo per capire appunto cosa ci sta succedendo. E quindi, contrarietà per ragione, contrarietà per fede, qual è il compito dei cristiani. E poi ringraziamo perché ci presenterà la Beata Benedetta Bianchiporro. E possiamo dire che davvero la beatificazione della Beata Bianchiporro successa in questi giorni, forse anche quella non è un caso, ma è come una luce a cui intanto guardare per capire. Grazie. Questa mattina nell'ufficio delle letture c'era un brano di Sant'Ambrogio, grande vescovo di Milano, tratto dal suo commento tra le tre filippesi. In questo brano si leggeva la gioia di un mondo senza Dio va a finire in una tristezza infinita. E allora quando ho letto questo brano ho subito pensato in fondo di fronte a tutti questi casi, poi oggi ne abbiamo conosciuti altri, ma di fronte solo ai casi di cui siamo venuti a conoscenza attraverso i mass media, Alfie, Charlie, Lampert, Welby ancora quando ero in seminario. Sicuramente il cuore di tutti noi ha sentito una tristezza, ma io penso anche il cuore di coloro che sostengono l'eutanasia e il suicidio assistito, perché al cuore si può mentire con l'ideologia, ma il cuore più forte dell'ideologia. E quindi il sentimento del fallimento dell'uomo è evidente. Il fallimento dell'uomo che pone la speranza in se stesso, in questi casi è evidente, non può che generare questa tristezza infinita di cui parla Sant'Ambrogio. Se voi leggete un bellissimo romanzo profetico, Il padrone del mondo, di Benson, scritto all'inizio del 1900, lui descrive una società senza Dio, una società, un mondo in cui l'uomo si è fatto Dio, che vive di una ideologia umanitaria, filantropica, senza la divinità. E in questa società, per questo dico che è profetico e parla ai nostri giorni, ci sono le cosiddette case di felicità dove si va a morire, dove ci si dà il suicidio. E una delle protagoniste del libro va a morire, Mabel, va a morire in queste case della felicità e sono pagine piene di tristezza e di amarezza. Perché si vede, Benson è bravissimo nel descrivere la psicologia di questo personaggio, si vede una persona che non ha più motivi per vivere. Non ha come motivo per vivere l'ideologia del padrone del mondo perché la delusa, perché si è dimostrata violenta verso il piccolo greggio che era rimasta la Chiesa Cattolica. E d'altra parte non ha come motivo per vivere l'esperienza cristiana, perché non l'aveva conosciuta, aveva solo un sentimento di nostalgia verso il ricordo della nonna che recitava il rosario. E quindi questa tristezza di fronte all'eutanasia e al suicidio assistito è una cosa che emerge con potenza e non si può negare. Paolo VI diceva che la Chiesa è esperta in umanità, esperta in umanità anche in questo caso. La Chiesa riporta l'uomo alla sua verità attraverso il Magistero. Dice la verità dell'uomo e la verità delle cose. E su questi temi c'è un documento che è fondamentale. Io l'ho riletto in questi giorni per prepararmi all'incontro, l'avevo letto quando ero in seminario, l'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, che insieme alla Veritatis Splendor del 1995, insieme alla Veritatis Splendor del 93 alla Fides et Ratio del 98, rappresenta un trittico, diciamo così, insuperabile su queste tematiche. La Veritatis Splendor ha come tema la morale, quindi riafferma l'esistenza di una morale oggettiva, non legata alle circostanze, di una legge naturale, delle azioni intrinsecamente malvagie, l'intrinsece malum, come dice la dottrina. E poi invece l'Evangelium Vitae del 95 trae le conseguenze di quei principi della morale espressi due anni prima per quanto riguarda le tematiche della vita. E poi c'è la Fides et Ratio del 98 che invece dà i fondamenti, offre i fondamenti filosofici e teologici di questa visione della morale cristiana. E le parole di Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae sono molto chiare. Prima di tutto è bellissima perché inizia con un'introduzione che è un grido di speranza. L'inizio dell'Evangelium Vitae è un annuncio di speranza a un mondo infinitamente triste, possiamo dire così. Infatti c'è l'annuncio della buona novella del Signore, viene citata la frase di Gesù, sono venuto a portare vi la vita affinché abbiate una vita piena. E quindi è proprio una risposta quella enciclica a questo mondo. Poi c'è una definizione di eutanasia che a me ha colpito molto perché viene così definita l'eutanasia. In un tale contesto si fa sempre più forte la tentazione dell'eutanasia, cioè di impadronirsi della morte procurandole in anticipo. Mi ha colpito molto quel verbo impadronirsi della morte perché in fondo l'inizio della vita e la morte dell'uomo sono i due momenti che esistenzialmente con più evidenza e con più potenza ci dicono che la vita non ci appartiene. Sono proprio due momenti cruciali per la vita dell'uomo. Per me quando ci sono i funerali in parrocchia è sempre un'occasione per parlare al popolo perché di fronte alla morte non ci si può non interrogare sul senso della vita, sulla dipendenza da un mistero. E invece l'eutanasia è proprio la negazione di questo. È l'uomo che si fa padrone, padrone della morte. Toglie a Dio la sovranità sulla morte che insieme al concepimento è proprio un avvenimento, chiamiamolo così, che dice che l'uomo non si fa da sé e che dipende. E poi Giovanni Paolo II condanna anche il suicidio assistito. Siamo nel 95, quindi ancora siamo lontanissimi da certe problematiche, ma probabilmente in alcuni paesi erano già tematiche presenti. Pensiamo all'Olanda, la Santa Sede ha una visione universale delle cose. Quindi parla noi oggi, quando noi leggevamo queste cose sul suicidio assistito nel 95, era molto più attuale il tema dell'aborto. Condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi collaboratori e qualche volta attori in prima persona di un'ingiustizia che non può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta. E poi cito una frase di Sant'Agostino, della città di Dio di Sant'Agostino. Pensate, il suicidio assistito era stato condannato da Sant'Agostino. Quindi dall'inizio, dall'inizio del pensiero cristiano, non è mai lecito uccidere un altro anche se lui lo volesse, anzi se lo chiedesse, perché sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato a liberare l'anima che lotta contro i legami del corpo e desidera distaccarsene. Non è lecito neppure quando il malato non fosse più in grado di vivere. E poi continua, anche se non motivata dal rifiuto egoistico di farsi carico dell'esistenza di chi soffre, l'eutanasia deve dirsi una falsa pietà, anzi una preoccupante perversione di essa. La vera compassione, infatti, rende solidale col dolore altrui, non sopprime colui del quale non si può sopportare la sofferenza. Ecco, l'Evangelium vitae è piena è piena di questi squarci di luce sui giorni di oggi, quindi invito tutti a riprenderla in mano e a rileggerla. Ci sono alcuni momenti del Magistero che sono come delle pietre che costruiscono una casa, sono insuperabili. Non tutto il Magistero è così, ma ci sono alcuni punti del Magistero della Chiesa che sono insuperabili. L'Evangelium vitae su questi temi è questa cosa qui, come dire, un mattone che non si può togliere. Bisogna farci conti per avere un giudizio chiaro. Sempre nell'Evangelium vitae, Giovanni Paolo II dice che, con un'espressione molto scolastica, molto ottimista direi, con molte difficoltà e incertezze, ogni uomo sinceramente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione, non senza il segreto influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta nel cuore il valore sacro della vita umana. Con questa frase il Magistero della Chiesa ci insegna che la sacralità della vita è una verità riconoscibile dalla ragione dell'uomo. Quindi non è soltanto, direbbe San Tommaso, fa parte della teologia naturale, c'è una verità rivelata, ma nello stesso tempo riconoscibile dalla ragione dell'uomo. Però ci sono quelle due parole, con confusione e difficoltà. E possiamo dire questo, oggi questa confusione e questa difficoltà sono esasperate. Sono esasperate da una situazione culturale, in particolare sono esasperate da quella che possiamo definire la cifra della modernità. Cornelio Fabbro, un grande filosofo tomista, sintetizzava con una frase molto potente e illuminante la cifra della modernità, all'aspetto decisivo del mondo moderno. Lui diceva, nel mondo moderno, se Dio c'è, non c'entra con la vita degli uomini. La modernità non è tutta qui, naturalmente, è una sintesi, però sicuramente dice un aspetto dominante, la perdita del senso di Dio, che oggi è sotto gli occhi di tutti. E questa perdita del senso di Dio ha dei riflessi sulla vita politica e sociale decisivi. Giovanni Paolo II dice che la perdita della verità della sacralità della vita fa perdere il fondamento alla convivenza umana e alla comunità politica. E poi in un altro passo bellissimo dice che senza Dio la società diventa un insieme di individui, che sono sempre nell'Evangelium Vitae, c'è questa immagine molto bella, un insieme di individui che sono messi insieme come dei sassi in un mucchio, uno sopra l'altro, senza alcuna possibilità di relazione fra di loro. E c'è un autore, secondo me, che ha vissuto gli ideali della rivoluzione francese, perché in fondo la rivoluzione francese ha dato origine alla modernità e gli sviluppi politici che vediamo oggi li ritroviamo tutti nella rivoluzione francese. Questo autore che poi si è convertito ad Alessandro Manzoni. Lui in un dialogo dell'invenzione entra nelle tematiche politiche, probabilmente influenzato da Rosmini, il padre del personalismo cristiano, che esalta il soggetto legandolo a Dio, era amico di Rosmini. Ma in questo dialogo dell'invenzione, che non si studia mai a scuola, ma è un dialogo molto bello, lui dice che proprio guardando l'esperienza rivoluzionaria dice che una società senza Dio diventa l'anarchia e poi il dominio dell'uomo sull'uomo. Cioè diventa, prima di tutto, un'esaltazione della libertà assoluta, come diceva il professor Rocchi prima, l'affermazione dell'autodeterminazione. Ma poi questa affermazione dell'autodeterminazione si trasforma nella schiavitù del più debole verso il più forte. E lui aveva presente l'inizio della rivoluzione, i grandi ideali, libertà, uguaglianza, fraternità e poi il terrore di Robespierre. Aveva presente lo sviluppo, uno sviluppo storico che metteva in luce una difficoltà culturale. L'aver staccato la società e l'uomo è l'uomo da Dio. In fondo eliminando il rapporto con Dio la libertà dell'uomo non ha più alcun fondamento. Diventa anarchia, libertà assoluta, libero arbitrio assoluto, autodeterminazione assoluta. Ma poi c'è nessuna giustificazione al non essere schiavi del potere. Perché l'uomo, se non ha un legame con Dio, questo è un esempio che anche io appartengo alla storia, un esempio che faceva Don Giussani in Cattolica, l'uomo è come la schiuma di un'onda del mare. La schiuma di un'onda del mare, pensate alle onde, la schiuma bianca, sorge e poi rifluisce col mare. L'uomo nasce e poi ritorna nel nulla e appartiene totalmente al mare. Se non c'è il legame con Dio, la persona appartiene totalmente alla realtà che si vede, che si tocca, la realtà empirica. Non ha alcun legame che lo salvi dal potere di questo mondo. E' il potere degli uomini e in qualche modo l'aspetto in cui la realtà che si vede e che si tocca diventa più determinante verso la nostra esistenza. Diventa schiavo, schiavo del più forte. Non c'è niente che fondi una libertà più grande del potere dell'uomo sull'uomo. E questo insegna la rivoluzione francese. E questo, secondo me, insegna quello che sta accadendo in questi giorni. E quello che io ho dato un'occhiata all'ultimo libro del professor Rocchi, e secondo me mostra bene, come ha fatto anche capire nel suo intervento, questo passaggio dall'esaltazione dell'autodeterminazione alla suppressione del soggetto, alla giustificazione della suppressione del soggetto. Si passa da un'esaltazione dell'io alla schiavitù dell'io verso, di fronte agli altri uomini, che possono essere anche i genitori, come nel caso di Luana. Quando ci fu il caso di Luana in Glaro, insegnava la nuova scuola elementari e mi chiesero di spiegare ai bambini il caso di Luana. Al che io mi rifiutai e non lo feci, perché dire ai bambini che un padre vuole uccidere la figlia sarebbe stato assolutamente disumano. Ma di fatto era così. Successo è questo. Anche i legami affettivi più forti possono diventare il potere dell'uomo sull'uomo. In quel caso è stato evidente. Ecco, concludo un po' con un invito a un compito. Qual è il compito della Chiesa, il compito di ciascuno di noi in questa situazione. Questa situazione in cui sembra veramente prendere forma quello che De Lubac scriveva nel 1943, nel suo volume Il dramma dell'umanesimo atio. Lui scrive la società può organizzarsi senza Dio, ma si organizza contro l'uomo. Se la società si organizza senza Dio, si organizza contro l'uomo. Lui lo scriveva proprio in mezzo alla seconda guerra mondiale, in cui questo frutto dello scontro fra i totalitarismi era evidente, ma sta diventando evidente ancora oggi. Allora qual è il compito nostro? Prima di tutto io penso che il compito di ognuno di noi è farsi una compagnia nel giudizio. E questo incontro è un esempio di questo. Aiutarsi a giudicare le cose, aiutarsi anche attraverso il Magistero della Chiesa, i momenti più illuminanti di questo Magistero. Un giudizio, un giudizio che è una responsabilità prima di tutto verso noi stessi, perché una responsabilità di fronte alla verità è una responsabilità verso noi stessi. In secondo luogo è una responsabilità verso il popolo di Dio, perché la Chiesa deve essere educata a dare un giudizio sulla realtà ed aiutata nella formulazione di questi giudizi su quello che accade. E poi è una responsabilità verso i fratelli uomini. Perché appunto eliminare la sacralità della vita vuol dire eliminare il fondamento della convivenza umana. Diventa una società violenta. E attenzione bene, quello che ho cercato di definire velocemente è stato come un voler mettere in luce quello che si muove sotto il mare, no? Perché noi siamo sempre abituati a vedere le onde del mare e a non renderci mai conto dei movimenti culturali profondi, quello che descrive Manzoni appunto, che vengono da molto lontano. Perché noi abbiamo sempre l'idea che la cultura si allontana dalla vita reale. Invece sempre Manzoni nel dialogo dell'invenzione scrive la metafisica è artefice di avvenimenti, cioè la posizione culturale poi porta a conseguenze, a conseguenze politiche, sociali, esistenziali e giunge alle sue conseguenze logiche inevitabilmente nel tempo. Logica traditora che con il tuo andare dritto conduce all'assurdo. Queste conseguenze sono assurde, ma se i presupposti culturali sono sbagliati, poi le conseguenze arrivano, prima o poi. Quindi prima di tutto un aiuto in questo, senza neanche avere il problema di vincere le battaglie, ma proprio come una responsabilità verso di sé e verso gli altri. Newman scrive in una sua opera, noi sentiamo che le nostre idee sono vere, siamo pochi, ma siamo certi che grazie alla forza del vero sapremo diffonderle. Ecco questo è il primo compito. Il secondo compito è testimoniare una vita nuova, perché una posizione come quella descritta da Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae non può che sorgere dall'annuncio di Cristo. Infatti inizia così l'Evangelium Vitae. L'introduzione è questa. Testimoniare. Alle volte oggi nel mondo cattolico la testimonianza della vita e in qualche modo la lotta culturale, i giudizi, sono spesso separati, divisi. E invece nell'esperienza cristiana, nella chiesa, spesso sono divisi. Ma nell'esperienza cristiana autentica, invece sono sempre insieme. Perché non c'è esperienza senza giudizio. E il giudizio nasce dall'esperienza. Il giudizio culturale e l'esperienza cristiana, la vita, la vita nuova, sono come il fiume e gli argini del fiume. Gli argini del fiume hanno senso se c'è il fiume. Ma senza argini non c'è nessun fiume. L'esperienza cristiana tiene uniti questi due momenti. Quindi il compito è duplice. Ridire le cose e poi testimoniare una vita nuova. Per questo spendo questi due minuti finali per parlare di Benedetta Bianchi Poro, che è stata beatificata qualche settimana fa. I Santi parlano sempre al tempo a cui vengono proposti, in modo provvidenziale. E quindi che sia stata beatificata questa ragazza proprio prima della sentenza della Corte Costituzionale, prima che scoppiasse il dibattito sui giornali, secondo me è molto significativo. Ecco, bisogna aiutarsi a guardare la vita dei Santi, che è la vita di persone che hanno vissuto questo rapporto con Dio, negato, negato nella modernità. Benedetta è una ragazza che nasce a Forlì. Nel 1936 morirà a Sirmione. Nel 1964, quindi vive molto poco, insomma. Si iscrive a Medicina, non riuscirà per la sua malattia a portare a termine l'università. Gli mancava solo un esame. E fu affetta da una malattia, non mi ricordo più il nome, ma che diagnosticò lei. Diagnosticò lei stessa, studiando all'università. Ma in ogni caso, questa malattia gli faceva perdere tutte le facoltà sensitive. Per cui iniziò con non riuscire più a camminare. Poi perse la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto. Negli ultimi mesi era come un castello isolato rispetto alla realtà. Perché non aveva più vie di comunicazione. Aveva perso tutta la sensibilità. Gli era rimasta solo come sensibilità un punto nella mano che lei sentiva. E quindi comunicava con l'esterno attraverso quel punto lì. Avevano inventato un alfabeto attraverso il quale comunicavano con lei e lei in qualche modo riusciva a dire qualche parola confusa. Se voi leggete i suoi scritti, ci sono naturalmente momenti di sconforto, ma non c'è mai la disperazione. Non c'è mai quella tristezza infinita di cui parla Sant'Ambrogio. Rimane sempre un orizzonte di letizia e di una pace che va crescendo con gli anni. Vi leggo un brano in cui lei ringrazia, ringrazia Dio per la sua vita. Queste frasi le dice subito dopo che ha perso l'uso delle gambe, quindi è rimobilizzata a letto. Quanto a me faccio la vita di sempre, eppure a me sembra così completa. È però vero che la vita in sé e per sé mi sembra un miracolo con tutte le sue cose. La sacralità della vita, il rapporto con Dio che rende miracolo ogni aspetto della propria esistenza. solo in questo rapporto può essere vero quello che dice il Cardinal Caffarra, che la dignità dell'uomo coincide con il suo essere, con il suo esistere. E vorrei inalzare un inno di lode a chi me l'ha data, come vorrei farti capire quello che provo. Conosci il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, oggi è la festa di San Francesco, e semplicemente sublime. E poi l'altro aspetto che mi ha colpito della sua vita è che lei andrà a Sirmione, sarà ricoverata in una clinica a Sirmione, ma la sua stanza d'ospedale era diventata un punto d'incontro per tanti studenti. Era diventata missionaria. Pur immobilizzata in un letto di ospedale, questa testimonianza di vita nuova irradiava una luce che attraeva. Erano i ragazzi di GS che l'andavano a trovare, ma non erano loro ad aiutare lei, era lei che aiutava loro. Rimase in clinica per un lungo periodo. La sua stanza si riempiva tutti i giorni di ragazzi e ragazze che andavano a trovarla, perfino a gruppi di dieci, quindici per volta. Benedetta si intratteneva con loro fino a sera e la mamma fungeva da trasmettitrice. era la mamma che traduceva, perché sapeva questo alfabeto attraverso il quale potevano comunicare con lei. E lei prendeva parte alla sorte di tutti con un'attenzione struggente e parlava, parlava, fino alla estenuazione, fino alla febbre. Aveva sempre un terribile dolore al capo, eppure chiedeva perdono se mai avesse trascurato qualcuno. Era inverno, e specialmente qualcuna delle ragazzine aveva le mani fredde. Allora Benedetta insisteva per offrir loro il proprio scialle o la borsa dell'acqua calda. A volte, col proprio alito, le riscaldava dolcemente, stringendo fra le proprie mani le mani di queste ragazze, a lei completamente sconosciute. E benché sconosciute, pareva che leggesse con estrema chiarezza nelle anime loro. E non le poteva vedere né ascoltare. Ecco, la vita di Benedetta Bianchiporro fa sorgere in tutti noi sicuramente la domanda come si può vivere così. Ma è una domanda che pone al mondo tutto. E sicuramente è una prospettiva affascinante. Quindi il nostro compito in questa situazione è annunciare la verità delle cose, ridire la verità delle cose, un giudizio sulle cose e aiutarsi in questo. e testimoniare una vita nuova, anche indicando le vite dei santi, che sono la contemporaneità di Cristo oggi per ognuno di noi, affinché il mondo almeno si ponga la domanda. Si può vivere così e nasca nel mondo un desiderio che sconfiga la tristezza infinita. Grazie davvero Don Daniele. E ora ci sono un po' le perle di questo nostro incontro di stasera. E le perle di questo nostro incontro di stasera incominciamo con Michela Massarini, che è appunto Michela Massarini Carloni ed è la mamma di Daphne Carloni e ci racconterà appunto l'esperienza di una mamma con tutti i giorni a contatto con la malattia. Buonasera. Allora, io non citerò né leggi, né nomi di malattie niente. Sono la mamma di Daphne. Daphne è una bambina di quasi quattro anni. Farà quattro anni a gennaio. Allora, ho scoperto della sua malattia quando Daphne era nella pancia. Potevo fare una scelta. In tanti mi hanno detto, mi chiedevano se sapevo a cosa andavo incontro. Non potevo sapere a cosa andavo incontro. Però ho scelto di portare avanti questa gravidanza. Lo dico in breve. Lei si muoveva nella pancia. Lei mi dava segnali di vita e io non potevo deluderla. Daphne non è nata a Pesaro. È nata a Roma. Qua non sarebbe nata. È nata a Roma e quindi io devo dire anche che siamo stati fortunati. Daphne è una bambina con una malattia genetica molto rara. Non abbiamo ancora il nome della sua malattia. Sono un insieme di sindromi. È una bambina come Alfie, come Charlie. È una bambina che in questo momento si alimenta da sola, però potrebbe necessitare di una PEG. Siamo stati lì per fare una PEG. Ha un respiratore e ha ossigeno dipendente. Non si muove. Le manca una buona parte di cervello. Però Daphne vuole vivere. Daphne comunica. Parla, dice poche parole. Mamma, papà, nanna. Però Daphne vuole parlare con noi. Daphne ci comunica col sorriso, con la mimica del viso. Non riesce a muovere le mani, però cerca di accarezzarti. E lei si è aggrappata alla vita. Io da mamma dico che diritto ho di fermare questa vita. Se lei vuole vivere, no? Mi sono state poste molte domande. Perché hai scelto di andare avanti? Quando io chiedevo dei diritti, e ora mi chiedo cosa sta succedendo? Cioè questi diritti ce li daranno più? Perché le domande che mi sono state fatte sono state quelle che prospettive di vita hai, no? Vedi per tua figlia che cosa vuoi da tua figlia. Ma io cosa potevo volere? Ho cinque figli, non potevo chiedere niente a nessuno di miei figli. Non è che li ho fatti nascere per far diventare quello medico, quello avvocato o che cosa. Cioè loro diventeranno quello che vorranno diventare. Io sarò solamente la mamma che li accompagnerà nella loro vita. E così è la stessa cosa che ho fatto con Daphne. Daphne quando era nella pancia mi avevano detto che non sarebbe nata, non ce l'avrebbe fatta per tutte le sue malformazioni. Alcune sue sindrome dovevano avere anche... Cioè le sue sindrome, alcune di queste, davano anche delle malformazioni nel viso. Lei non le ha. Lei sembra una bambina come tutti gli altri se tu vedi solamente la fotografia. Infatti molte volte le persone si fermano davanti a questo e mi dicono ma tua figlia non ha niente. No, mia figlia non ha niente. mia figlia sta attaccata a un filo. Mia figlia se si addormenta smette di respirare perché i suoi centri del respiro non si controllano. Quindi il cuore si spegne e i polmoni non hanno più quell'atto che è naturale in tutti noi. Per cui lei vive monitorata giorno e notte. Io non dormo perché sento i suoi monitor che suonano. Quindi le metti la mascherina che a volte si sposta, le metti il respiratore e che a volte si disconnette. Se salta la luce siamo nei guai. Quindi non è semplice la mia vita. Io sono un'insegnante e il mio lavoro l'ho oramai lasciato da parte. Però ho fatto una scelta e io la rifarei altre mille volte. Quando mi dicevano che non è adatta alla vita io non potevo capire perché mia figlia non fosse adatta alla vita. Quando è nata non me l'hanno fatta vedere. Tutte le aspettative che io avevo quelle che una mamma quando sogna una gravidanza sogna di avere un bambino a me io l'ho dovuta accantonare. Però lei non mi ha mai delusa non mi ha mai cioè lei mi mostrava bastava che io essessi vicino già il calore io dico l'amore lei mi ha ripagato di tutto questo. Lei non doveva vedere non doveva sentire non doveva parlare e mi ha chiamato mamma mi ha chiamato mamma e papà quando ci avevano detto che sarebbe andata in sala operatoria e sarebbe morta sicuramente. E lei prima di entrare in sala operatoria ci ha chiamato mamma e papà e continua. Allora io dieci mesi fa ho perso un figlio in un incidente un ragazzo di vent'anni non ho potuto scegliere se non ho potuto scegliere la vita per lui perché lui è morto sul colpo quindi non ho potuto fare quella scelta non c'era una legge che poteva dire a me e mio marito scegli di farlo vivere o no allora mi chiedo chi fa queste leggi non si è mai trovato in questa situazione secondo me perché se si fosse trovato in questa situazione magari avrebbe detto cioè scelgo di tenerlo con me Daphne mi ha aiutato allora quando mi dicevano a cosa ti serve una bambina così non si muove non parla ti costringe siamo stati tre anni e più dentro un ospedale in una camera spesso da soli in una semi-intensiva quindi non avevamo nessuno ho conosciuto tante persone alcune uno è Emanuele Di Leo che cercava di portare Alfi qua in Italia e ho cercato di chiedere aiuto a tutti perché comunque molti ospedali mi rifiutano la bambina rifiutano di curarla perché al mondo non ci sono casi come lei e non sanno è difficile in letteratura non sanno dove mettere le mani però quando mi chiedono a cosa serve una bambina così io me la son fatta tante volte la domanda mi sono chiesta anche se fossi stata egoista se magari era felice se soffriva perché a volte io la vedo soffrire però lei è sempre lei è sorridente lei lei è gioiosa ma non è che lo vediamo lo diciamo noi perché ha questo sorriso no molte volte mi hanno detto è una mimica facciale il suo sorriso no lei sorride perché è felice e lo vediamo piange quando non sta bene o quando è triste o quando mi allontano ma quando è felice lo vediamo e la maggior parte delle volte lei è felice lei si è accorta che il fratello non c'è più e se mi vede che piango mi guarda mi fa il broncio e mi dice che non devo piangere allora quando mi dicono a cosa serve una bambina così io dico ma se non avesse avuto lei come avrei affrontato questo dolore questa perdita potrei anche sentirmi dire ma allora tu la usi no la stai usando perché se tu dici che ti ha aiutato ad affrontare questa perdita io non la uso io non ho scelto di avere una bambina così lei è arrivata da me forse lei ha scelto me forse lei ha capito che io magari potevo starle vicino io non le ho io l'unica cosa che le sto dando è l'amore ma io vedo che quello che io sto facendo per lei è tutto ricambio cioè lei me lo dà indietro io non faccio niente io l'amo solo non lo so se devo aggiungere altro ma ci sarebbe da dire tante cose sarebbe da vederla perché vederla poi c'è un conto uno la racconta e dice vabbè ma una bambina malata sta lì in un letto ma no lei trascina ci sono persone che io vedo che c'è qualcuno che qua dentro l'ha conosciuta e lei trascina lei è veramente una gioia io la chiamo il mio piccolo miracolo e lo so che forse non arriverà a diventare grande perché questo me l'hanno detto perché comunque scientificamente mi dicono è così però io le sto accanto per me è un dono fino a che lei vorrà stare con me potrà stare con me io combatterò contro tutto quello che potrò combattere grazie la seconda pella di stasera è Simona Berardi dell'associazione comunità Giovanni Papa XXIII che ci racconterà la bellezza della vita nonostante la malattia sono Simona Berardi sono di Riccione ho 49 anni è basilare mettere mettere in evidenza adesso soprattutto quando sentiamo parlare di eutanasia suicidio assistito eccetera quindi fare in modo che noi decidiamo comunque i dottori o i e noi decidiamo della vita di altre persone io volevo andare contro questa corrente dicendo prima di tutto la vita è un dono quindi non possiamo mai dire che noi possiamo togliere è un è un dono che il Signore ci fa a tutti quanti quindi questa cosa mi ha cambiato la vita allora come ho detto sono nata 49 anni fa quindi è sicuramente la mia vita non è stata facile in molti momenti soprattutto quando mi hanno diagnosticato questa terribile malattia che è una malattia neuromuscolare che mi porterà piano piano almeno mi hanno detto così piano piano mi porterà a stare sul letto a vegetare e questa cosa quando me l'hanno detta ma anche durante gli anni dopo mi sono detta mi chiedevo come mai il Signore è tanto buono eppure a me mi dà questa cosa quindi perché insomma cercavo cercavo di trovare una motivazione e quindi mi sono inchiusa a quel tempo dentro me stessa tanto che non volevo né amici né altre persone e invece quindi da quel momento è cambiato qualcosa perché io non volevo stare da su quindi volevo cercare cercare comunque di avere delle persone intorno intorno a me e dopo questo c'è stato il cercare comunque di vedere se c'erano delle piccole belle cose dentro di me e ne ho trovate qualcuna quindi da quel momento mi sono resa conto che dovevo veramente cercare il bello che è il bello c'è in ognuno bisogna solamente te l'hanno fuori veramente questa cosa insomma dopo tra il signore che mi sta che mi sta da vicino tra la famiglia che il signore anche lì mi ha fatto vedere veramente che mi vuole bene perché mi ha dato una famiglia veramente eccezionale poi anche gli amici che mi stavano intorno la comunità proprio Giovanni che mi ha sempre fatto vedere che ognuno di noi può dare qualcosa l'oreste diceva nessuno è così povero da non poter dare qualcosa agli altri quindi tutti hanno qualcosa da dare allora io tramite come ho detto tutti questi aiuti sono anche diventata psicoterapia psicoterapeuta in terapia familiare quindi cerco di aiutare gli altri per quello per quello che posso d'onorezza veramente mi ha fatto capire che tutti noi possiamo essere importanti per gli altri la vita è sempre degna di essere vissuta anche se c'è una malattia anche se in alcuni momenti ti dicono che perché fare soffrire delle persone eppure voglio dire non possiamo deciderlo noi quando quando veniamo alla vita qualunque modo però è la vita io ho scoperto che potevo stare vicino agli altri sebbene io ho bisogno di tutto quindi di un accudimento di una persona che mi soffre il naso eccetera però tramite la vicinanza tramite lo stare vicino agli altri quanti discorsi sono stati fatti magari nei posti più impensabili eppure abbiamo trovato il modo di comunicare e di ascoltare quindi cerchiamo veramente di di vedere che la vita è sempre degna di essere vissuta questo non vuol dire che io non ho mai avuto dei momenti in cui ho anche pensato al suicidio qual dei rod è scente però però è il fatto di pensare di più a questo dono della vita è una cosa meravigliosa cioè io adesso mi mi occupo nella papà Giovanni anche di aiutare le mamme in difficoltà le mamme in difficoltà non solo a livello economico ma anche a livello nazionale e tutto e tutto quanto quindi quando aiuto quelle mamme a diventare a diventare veramente genitori mi dico vabbè sono diventata un po' mamma anch'io questa cosa è veramente mi dà coraggio di affrontare tutto come dicevo le mie difficoltà sicuramente ci sono quando per esempio vado in un posto per esempio alla posta che non si rivolgono quelli delle delle dello sportello non si rivolgono a me ma papà ballano con me con chi mi accompagna e questa cosa mi vuol molto arrabbiare insomma però cerco veramente di andare avanti proprio perché voglio testimoniare che la vita è un valore troppo grande quindi ringrazio oggi quello che è stato detto come è stato detto anche però quindi ho guardato tante volte il croce fisico che abbiamo dietro di voi insomma quindi per dire che il signore comunque è presente dobbiamo aver solo fiducia applausi applausi Severini, che è un medico palliativista della Fondazione ANT, Associazione Nazionale Tumori. Esperienze di flessione del lavoro sul campo. Alla dottoressa io pongo solo una domanda. Abbiamo già visto nei casi descritti sia dal magistrato Rocchi che altro che nel caso di Vincent Lambert l'utilizzazione della sedazione palliativa semplicemente in seguito al fatto alla sospensione della nutrizione e idratazione, per togliere quindi tutti i sintomi alleviati legati a questo. E allora le faccio una domanda. Qual è la possibilità e quali sono gli abusi della sedazione palliativa? Ancora, qual è l'autentica natura delle cure palliative che le rende quindi corrette, antropologicamente e sociologicamente desiderabili? Perché queste sono, le cure palliative sono il punto fondamentale di risposta al vero problema del dolore, al vero problema appunto delle questioni che stiamo esaminando. Allora possibilità e abuso e a chi sono destinate. Grazie, buonasera a tutti e ammetto la mia difficoltà in questo momento perché sono molto emozionata dopo le testimonianze che mi hanno preceduto. Cercherò di riordinare le idee. Io ho iniziato il mio corso di medicina con la convinzione e la speranza di riuscire a fare la pediatra. La mia vita non è stata così poi perché nella mia famiglia all'improvviso la malattia è entrata in modo prepotente e mi ha fatto conoscere una parte del dolore, una parte di malattia che non pensavo di dover conoscere anche in giovane età. e in questo percorso, poi ho perso mio padre, ho vissuto la fase dell'abbandono, abbandono totale. E quindi quando mi sono laureata non ho pensato più a fare la pediatra ma ho cercato un lavoro che non fosse uguale agli altri. E ho incontrato la fondazione Ant, ho incontrato il professor Franco Pannuti che nel 1978 ha fondato l'associazione. Quando ancora gli ospedali erano pieni di letti. Lui nel suo reparto di oncologia, lui era il primario del Sant'Ursola Malpighi, aveva 80 posti letto. e non solo, non si parlava di cure palliative, non si parlava di terapia del dolore, se ne parlava veramente poca. E questa è stata la mia scelta di vita. Da lì è partita la mia vita dedicata esclusivamente a questo tipo di pazienti, ai pazienti oncologici. L'altra cosa che voglio ricordare è che il professor Pannuti, forse proprio antecedendo ed essendo così lungimirante, ha percorso e ha preceduto i tempi. Nel 1978, quindi negli anni 80, parlava dell'eubiosia che è un sinonimo che lui in qualche modo ha inventato, che è la buona vita. La vita vissuta con dignità e si è sempre contrapposto con tutte le forze all'eutanasia e al suicidio assistito, fino a domani ricorre il primo anniversario della sua morte. Quindi la mia vita è stata donata in qualche modo a 8.500, 9.000 pazienti che abbiamo seguito in questo territorio. Il nostro è un servizio completamente gratuito, quindi non chiediamo niente, non dobbiamo essere pagati, ma quello che volevo raccontarvi un attimo è solo due esperienze il contrario di quello che abbiamo sentito. Allora la signora Evelina, 95 anni, un'ex maestra elementare, viene dimessa dall'ospedale con un'aspettativa di vita di pochi giorni e aveva sulla nutrizione parenterale. La figlia molto preoccupata perché mi dice guarda la mia mamma ha scritto di suo pugno queste volontà e io mi sento in colpa perché non le sto rispettando. Leggiamo questa lettera dove lei con una bella grafia dice che non vuole essere attaccata a respiratori, non vuole essere attaccata a macchine, vuole morire nel modo più naturale possibile e assolutamente non voglio quelle sacche bianche che chiamano nutrizione. Allora io mi pongo il problema, dico adesso come facciamo, però glielo dobbiamo dire perché non gli posso staccare la sacca. La cosa simpatica è che la signora abbastanza sonnolenta, abbastanza addormentata, gli dico signora Elvira, la dobbiamo, cosa vogliamo fare, la dobbiamo staccare, non la dobbiamo staccare, apre gli occhi e mi guarda e mi dice ma lei mi vuol far morire di fame. La seconda storia che è un po' più drammatica però secondo me è stata una bellissima testimonianza è quella di Francesca, una giovane, giovane 34-35 anni, a cui viene fatta diagnosi di un melanoma nell'ala del naso. Quindi intervento radicale e questa ragazza che io conoscevo perché le avevo seguito il nonno mi telefona e mi dice guarda io sono in questa situazione, ho finito tutto il percorso, in questo momento sto bene però tu mi devi fare un favore, dimmi, mi devi trovare il numero per andare a fare il suicidio assistito in Svizzera. Allora gli dico perché? Dico guarda io non sono per niente d'accordo, però non so neanche dove cercarlo, non ho proprio idea. E lei mi dice comunque se non mi aiuti te, io ci penso perché nel momento in cui la malattia come probabile ribusserà la mia porta, io non faccio più niente e vado in Svizzera. Mi ritelefona dopo un mese che aveva trovato gli agganci, si era già sentita con No no, è morta, però non è morta in Svizzera, è morta a casa sua nel suo letto e non ha più chiesto di andare in Svizzera a fare la... E quindi l'ho presa in assistenza, il primo mese, il secondo mese, ne abbiamo parlato molto perché era una cosa che a lei ogni tanto tornava e la sua paura era soffrire. E la sua paura era soffrire e mi riaggancio a quello che sono le cure palliative. Le cure palliative sono prendersi cura, vuol dire proprio prendersi cura, vuol dire posare un mantello sulle spalle di una persona. Queste sono le cure palliative, quindi vuol dire prendersi carico, prendersi cura del paziente e di tutta la sua famiglia. Prima condividevo perfettamente, a parte quello che hanno detto i tre relatori, uno più bello dell'altro, veramente meravigliosi complimenti, però quello che diceva il dottor Rocchi, quando diceva prendersi cura vuol dire prendersi carico di tutto quello che è, il percorso con la famiglia. Qualche volta il paziente non è in grado, un paziente che ha un tumore al cervello non è in grado di scegliere, però tu devi comunque creare un percorso con la famiglia. Poi possiamo parlare della nutrizione sì, dell'idratazione, ma nessuno non la vuole. E l'altra cosa è che dopo tutti questi anni che faccio questo lavoro, a parte il fatto che diciamo con le mie colleghe in particolare, con una di quelle più vecchie come me che lavora a Bologna, ma nessuno vuole morire. Sono attaccati tutti con le mani e anche con i denti qualche volta, perché la vita l'abbiamo sentito, c'è stata donata e tutti vogliamo viverla. L'altra cosa che volevo dire è che nelle cure pagliative, qualche volta è molto freddo, quando vado all'ASL che mi dicono quante visite hai fatto, quanti prelievi, quante flebo, magari nessuno, però stare con le persone, sentirsi vicini alle persone e aiutarli nel percorso più faticoso della loro vita, queste sono le cure pagliative. E in questo rientra anche quello che mi diceva la dottoressa, la sedazione. La sedazione è un atto terapeutico, non è né il suicidio assistito e né l'eutanasia. Il 20%, più o meno, questi sono dati scientifici, dei pazienti oncologici necessitano della sedazione. E quando si fa la sedazione? La sedazione si fa dai 3 agli ultimi 5 giorni della vita, quando c'è un sintomo refrattario a qualsiasi trattamento farmacologico. Questo vuol dire che se c'è il paziente che ha dolore non trattabile, con nessun farmaco che c'è in commercio, oppure pensate a un paziente in insufficienza respiratoria, io ancora mi ricordo il primo paziente che mi è morto, penso 26 anni fa, con due occhi azzurri che mi guardava come per dire ma tu stai lì che non mi fai niente, non vedi come sono ridotto, io ancora ho quegli occhi addosso. Ecco, qui in questi casi si interviene con la sedazione farmacologica. E dicevo che questo 20% circa che viene sottoposto, che poi sono dei farmaci che si usano per fare l'anestesia, non è sempre una sedazione profonda, ma sicuramente è una sedazione che aiuta il paziente a morire bene. Dicevo che qualche volta, scusate ho perso il filo, quindi la sedazione nel 20% dei casi scientificamente è dimostrato che il paziente sedato vive dai due ai tre giorni in più rispetto al paziente non sedato, perché sicuramente migliora la qualità del respiro, di tutto, nel senso che il paziente che sta male soffre di più e muore prima. L'altra cosa che brevemente voglio dire sono le cure palliative. Mi chiedeva la dottoressa chi sono destinate. La legge, innanzitutto, sono nate per i pazienti oncologici, quindi le cure palliative fino a poco tempo fa sono state sole ed esclusivamente per i pazienti oncologici. Con la legge 38 del 2010, in cui comunque dopo dieci anni siamo ancora molto in ritardo, la maggior parte delle regioni non ha niente di suo realizzato se non le onlus che operano nel territorio, le cure palliative è auspicabile che siano destinate a tutti i pazienti cronici in fase avanzata e avanzatissima. A me non piace usare il termine terminale perché secondo me è bruttissimo, io uso il termine in stato avanzato e avanzatissimo di malattia. Detto questo vuol dire che le cure palliative devono essere destinate a tutti i malati cronici che ne necessitano. Le cure palliative dove le mettiamo? Le mettiamo al centro di un percorso che da un lato abbiamo l'abbandono terapeutico, quello che vi dicevo, che nessuno ti segue, nessuno, quindi nessuno ha il controllo del dolore, la nutrizione, tutto quello che serve a un paziente per farlo stare meglio, oppure l'accanimento terapeutico che è altrettanto colpevole come l'abbandono, secondo me. Questo è quello che io faccio ogni giorno e quello che mi auspico passi anche culturalmente perché purtroppo ancora, pur essendo in questo territorio da 30 anni, ci sentiamo dire che sono quelli che mettono le flebo a gratis a casa. Io non sono una che mette le flebo, metto anche le flebo, ma io mi ritengo una pagliativista che prende in carico a 360 gradi tutto quello che è necessario. Quindi queste sono le cure palliative, ne dobbiamo parlare di più, come dobbiamo parlare più dei problemi della situazione di cui ci parlavano prima i relatori, però fa parte di un non abbandonare il paziente perché se i pazienti vanno poi a Cuba a comprare il siero dello scorpione o vanno non so dove a prendersi il bicarbonato poi ci lasciano anche le penne, forse è un po' colpa nostra che li lasciamo troppo soli. Grazie. La dottoressa ha a passo le questioni fondamentali, mancano le cure palliative, mancano le cure palliative su tutto il territorio, ma la Corte Costituzionale risponde dandoci il suicidio assistito. Questo forse è in mente un altro paese, forse è in mente un paese diverso da quello che noi stasera abbiamo visto. rimangono due cose che io voglio dirvi stasera. Prima di tutto è una battaglia per la vita che dobbiamo combattere tutti, ma come la combattiamo? Ognuno ha il suo posto. Primo, non lasciamo solo gli ammalati, non lasciamo solo i nostri anziani nei nostri quartieri, non abbandoniamo le famiglie che hanno problemi come quelli che ci ha testimoniato stasera, perché è lì che si giocano le nostre vere battaglie, è lì che dobbiamo ricostruire, perché è lì che è la carità. In quei malati, nella storia in Daphne c'è Gesù Cristo, questo è il cristiano, in ogni malato c'è il volto di Cristo. Non lasciamo solo i nostri malati, quindi ognuno di noi ha il suo compito. Quindi questo è il primo. Secondo, quando non è possibile accompagnarli concretamente, preghiamo, preghiamo per i nostri ammalati, preghiamo per i nostri anziani. Quarto, la battaglia culturale di cui diceva Daniele. È una battaglia fondamentale che dobbiamo continuare a fare e a costruire, perché dobbiamo porre un argine a questo favor mortis che sta conquistando la nostra Italia, la nostra nazione. Grazie di tutto. Grazie. 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 Grazie.